Beh, sarebbe possibile calcolare con precisione la probabilità di incontrare qualcuno positivo se sapessimo esattamente quante sono le persone positive in circolazione. Possiamo però avere un'idea perché al momento risultano positivi in questo momento un italiano ogni 500, però devono esserci in circolazione delle persone positive, molte di più, che non sanno di esserlo perché altrimenti non si spiegherebbe perché i contagi stanno procedendo a questa velocità. Immaginiamo che circolino altrettante persone che sono positivi senza saperlo. Che probabilità abbiamo di incontrarne una? Beh, se incontriamo un solo italiano, abbiamo evidentemente una probabilità su 500 che sia proprio uno di quelli inconsapevolmente positivi. Sembra un risultato rassicurante, ma la statistica inganna perché se invece di una persona sola ne incontriamo 15 nell'arco di una giornata, beh, la probabilità che almeno una di loro sia positiva è del 3%. Sembra poco, ma è la stessa probabilità più o meno che avremmo, tirando due dadi, di ottenere 6 su entrambe le facce. Tutti abbiamo giocato a tirare i dadi, tutti sappiamo che questo può avvenire ed è sempre più probabile che avvenga almeno una volta quanti più sono i tiri che ripetiamo. Quindi se di questi gruppi di 15 persone diverse ne incontriamo numerosi, per esempio ne incontriamo uno al giorno per tre settimane di seguito, beh, la nostra probabilità che almeno uno di loro sia positivo supera il 50%. Però nella vita reale, se facciamo una vita normale, incontriamo molto più di 15 persone al giorno. Immaginiamo le persone che vediamo sul lavoro e poi che incrociamo sulla metropolitana e poi magari al supermercato. E quindi al momento attuale incrociare prima o poi qualcuno di positivo sembra quasi inevitabile. Per fortuna però incrociare qualcuno di positivo non vuol dire infettarci, altrimenti ci saremmo già infettati praticamente tutti.